E' il tuo posto che vieni a scuola! E' il cellulare a casa! Pronto? Si! No, per la raccomandazione! No, ma io già ridemo le 3-3-3! E' la fine! Vorrei che ho perso da arrivare in più di un po' Io non ridemo però! Io vincere! Vince! Garmin! Con la vostra camionola! Vieni Garmin! Vieni per il 3-3-3-4-4-6-5-5-6! Allora, scientificamente, siamoci così! Guarda, 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 guarda... Guarda, 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 guarda... Guarda, 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 guarda... Guarda, guarda... Guarda... Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! I premi siano scelte da Cristina e da Erelina quindi io non c'entro niente anche se la domani no io approvo allora Katrin ci regalerà un ballo agli stili con gli anni 60 il mondo è come ando in doubt in a room of trouble in a room of trouble oh no oh no I'm in cover oh no I'm in cover oh no I'm in cover yes on my way oh lord when I get cold don't give me don't call me don't worry so I'm here don't stop me so I'm here oh no I'm in cover 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 reach out to me oh no for satisfaction yeah oh no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.